good morning sì qui sono diciamo le 10 e quindi come dico in questi casi certo non proprio una mattinata prestissima una mattinata inoltrata da qualunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 13 2022 and it's a wednesday it's a wednesday once again it enables a clear clear morning very still right now 1660 and 259 around 19 celsius and this means that it's that day really 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 soft like this doesn't disappear for me anche over this climate because per me è un clima molto più estivo che rater than spring climate yes per quanto concerne il video sui pensieri i video tots vedi non so se lo faccio ma nel caso appunto faccio sempre separato da questo quindi occhio anyway ah si and you all just see from the window si i think that it's a further down temperature potrebbe salire in qualche grado quasi sicuramente ah vedremo non siamo dei maghi su questo but really important thing as you all know thais is that we have we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente appunto già c'è essendo la mattinata inoltrata già si può vedere il sole essendo anche abbiamo cambiato l'orario qualche come sapete qualche settimana abbiamo spostato l'ora avanti comunque comunque all along the way sì perché comunque non è pomeriggio fortunatamente ancora una mattinata quindi credo che l'avremo appunto fino alla fine della giornata bene così speriamo di continuare con questo trend anche domani per cui trend che comunque sono davanti qualche giorno per cui said this so from the mythical window with the red orange blue green water portain and it's green roller shooter behind me on the top not visible infactoring the shot and finally from mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 eh vabbè great day in mode people follow dicendo ricorsi un saluto davvero a tutti e also i hope you have great breakfast everyone ve la farò tra poco il mio stomaco brontola non so il vostro sì quindi ci vediamo al video tutto se caso lo faccio domani grazie grazie grazie